I fatti essenziali della vita sono archiusi in quelle quattro parenti. Noterai che una delle tue personalità è sedotta dall'illusione dello splendore. Un pacchetto dorato, king size, con un insegna reale. Mi hai sentito? Un'implicazione che sottointende fama e ricchezza. Un'implicazione che sottointende fama e ricchezza. Un'implicazione che sottointende fama e ricchezza. Un sottile suggerimento che il tabacco è il tuo nobile e leale amico. E questa, Pete, è una bugia. E questa, Pete, è la verità. Oh, la bellezza è un melodioso canto di morte. Sono a sue fatto al dolce richiamo di questa sirena. Quello che comincia dolce finisce amaro. E quello che comincia amaro finisce dolce. Mi hai sentito? Oh, la bellezza è un soggetto. Mi hai sentito? Oh, la bellezza è un soggetto. Oh, sei proprio, non è seri spettacolo. Oh, sei proprio un essere speciale. E questo è il motivo per cui io e te amiamo le droghe. Ed è sempre per questo motivo che non posso restituire quel dipinto. Oh, sei proprio un essere speciale. Ora, ti prego, passami l'accendino. Mi hai sentito?